Usare tuo figlio per prendere informazioni sull'altro coniuge. Spesso capita che un genitore chieda al figlio di fare da referente su ciò che accade quando sta con l'ex. Metterai in questo modo tuo figlio in una situazione a dir poco imbarazzante, in quanto questi ha diritto a non schierarsi e continuare a voler bene a entrambi, indipendentemente dalle ragioni che hanno portato alla separazione. Quindi tuo figlio non è lo 007 del momento, va bene? E lascialo fuori da queste situazioni.